Ciao a tutti ragazzi, innanzitutto voglio ringraziarvi perché comunque il primo video di oggi sull'argomento di Bala e cioè sull'addio di Bala confermato dalle fonti, dai giornalisti, è andato molto bene. E quindi questa è la cosa positiva che mi porto a casa nella giornata di oggi. Dall'altra parte rimane l'amarezza e vi invito ad andare a vedere quel video per sapere la mia opinione in merito. Quella è stata la mia reazione a caldo, a caldissimo bollente perché mentre sono uscite le notizie ho iniziato a registrare il video. Ora invece questa sera vi porto una resta in più pacata, dopo tre dirette su tre canali, quello degli Autogol, quello di Sicolfo e Gabbo e quello di Lello con Chino. Abbiamo parlato un po' tutti insieme di queste cose. Ho avuto modo di sentire l'opinione di tante persone, di leggere le vostre opinioni nelle chat delle dirette. Voglio invece mettere in fila diversi punti qui sopra e alla fine del video anche svelarvi quello che avevo scritto di Bala, quello che lui stesso ha letto in chat su Instagram e direct di Instagram. È la stessa cosa a cui poi lui stesso aveva messo mi piace all'interno di quella chat. Purtroppo non ho avuto altri contatti con Di Bala, non sono riuscito a contattarlo. Lui comunque ogni tanto un occhio alle storie ce lo butta, però non è i messaggi privati. Vi faccio vedere quello a cui ha messo mi piace lui, ve lo faccio vedere alla fine di questo video per invogliarvi a terminarlo. Non andate più in fondo, subito ascoltate quello che c'è da dire prima che è di uguale importanza. Prima di tutto vi invito a scaricare OneFootball, il link è qui sotto in descrizione, di un'applicazione che è sponsor di questo canale YouTube e che ci farà capire dove andrà effettivamente Paolo Di Bala, dove ci sarà l'ufficialità di questo mancato rinnovo con la Juventus e dove potremo capire anche chi sarà il sostituto di Paolo Di Bala alla Juventus, che non sarà eventualmente un numero 10 proprio come Di Bala. Vediamo un po' che cosa succede. Intanto parto dal primo lato negativo in assoluto e cioè il fatto che Di Bala se ne va a parametro zero, che la Juventus lo perde a parametro zero. Non ne avevo parlato nel video di oggi, ma perché ero già proiettato su questa cosa, nel senso che se la Juventus decide di separarsi da Paolo Di Bala sa che lo perde a zero, quindi lo sapevamo da mesi, o rinnova Di Bala o va via zero. E questo è un grande colpo per l'economia della Juventus, è veramente il lato peggiore in assoluto. E devo dire che in tutta questa situazione ci sono due grandi colpe. Una grande colpe della Juve, una grande colpe di Di Bala. La grande colpa della Juve è averla tirata lunga, essere arrivati a questo punto, perché tu non impari oggi che Paolo Di Bala se ne va a parametro zero. Però è una notizia di cinque anni fa quando ha rinnovato Paolo Di Bala appunto nel 2017, sapendo che al 30 giugno 2022 sarebbe stato un free transfer, un free agent, e quindi sicuramente la Juventus che la tira per le lunghe non sottopone il rinnovo di contratto di Bala e quindi lo perde a parametro zero, questa è una grande colpa della Juventus. Dall'altra parte c'è una colpa di Di Bala, conferme da parte dei giornalisti, conferme da parte di Riva Bene, la Juventus e Di Bala avevano raggiunto un accordo nel mese di ottobre-novembre sulla base di 8 milioni di euro fissi, più 2 milioni di euro di bonus variabili quindi, ma questo contratto non è stato firmato perché Organtun non era ancora ufficialmente un procuratore sportivo. Quindi questo contratto è stato portato avanti, poi la Juventus qua ci ha ripensato, è tornata in trattativa e ha risottoposto un'offerta diversa, notizia di oggi, che Paolo Di Bala invece non avrebbe accettato. Quindi ci sono due grandi colpi, quella della Juventus di aver perso il calciatore a parametro zero dopo tanto tempo in cui si sapeva questa cosa, e quella di Di Bala che purtroppo ha scelto un procuratore che non era procuratore e che l'ha portato poi a non firmare effettivamente il rinnovo quando ne aveva l'opportunità. Ora però qua c'è il punto principale della situazione, perché quello che scaturisce nella giornata di oggi è la Juventus a Di Bala ha proposto un accordo di 6,5 milioni di euro all'anno. Questa è la mia lettura. Se davvero la Juventus dopo aver proposto a Di Bala 8 milioni di euro fissi più 2 di bonus per arrivare a 10, va a proporre 6,5 milioni di euro stop con Di Bala che ad oggi ne percepisce 7,3, prima me ne dai 10 nella totalità, poi dopo qualche mese ti torni fuori con un'offerta a ribasso o più bassa di quello che percepisco adesso, è quasi pari alla metà di quello che percepivo prima, capisco che a livello umano Di Bala possa rosicare, possa dar fastidio, possa essere orgoglioso e ridire ma scusa, così tanto di differenza rispetto a qualche mese fa? Allora delle due rifiuto l'offerta e vado in un'altra parte dove magari sono più apprezzato. Dall'altra parte invece dico che se invece questa offerta di 6,5 fissi era aggiuntiva di bonus, quindi che ne so, 6,5 fissi più 3 di bonus che arriva praticamente a 10 o 7 fissi più 3 di bonus che arriva a 10, magari in relazione al numero di gol, numero di presenze, il numero di trofei della UE, piazzamenti europei, eccetera, allora Paolo Di Bala me la deve accettare con l'offerta lì, perché comunque lui i 10 milioni di euro all'anno li può comunque ricevere attraverso l'impegno, perché per me non è un problema dare 10 milioni di euro a Di Bala se li merita, se vinciamo, se fa gol, se gioca, io do volentieri come qualsiasi giocatore che aiuta la Juventus ad arrivare a quelle posizioni. Poi è ovvio che la Juventus non ci fa una bella figura mettendo un contratto, togliendo il contratto, ritrattandolo, questa purtroppo penso che sia una cosa scontatissima da sottolineare, quindi dipende molto come è il contratto, poi ovviamente sono affaracci di Di Bala, cioè diciamoci la verità, è il suo futuro professionale, cioè lui è libero di accettare e non accettare, però se lui ai 10 ci poteva arrivare giocando e come sa fare, perché Di Bala è assolutamente un giocatore di livello, ammetto che un po' mi darebbe fastidio perché semplicemente per arrivare a quei 10 doveva impegnarsi lui per arrivarci, se dall'altra parte invece l'offerta da Juventus è fissa così 6 milioni e mezzo e basta, capisco che Di Bala giri nei coglioni, ma questa è la mia personalissima lettura e sono convinto che ognuno di voi avrà un'idea differente. La cosa che dico è che sicuramente questa è una decisione moderna da parte di Juventus e per moderna intendo post-Covid, l'anno scorso il Milan lascia a partire a zero Donnarumma e Cialanoglu, il Real Madrid lascia a partire a zero Sergio Ramos, il Barcellona lascia a partire a zero Messi per motivi che sappiamo, quindi sempre più società in questo momento fanno uscire a parametro zero e anche il Bayern Monaco mi viene in mente con Tiago Alcantara, il Liverpool con Tiago Alcantara che ha preso a Bayern Monaco, giocatori che hanno un valore importantissimo sul livello tecnico ma che si ritrovano svincolati e pronti a firmare con tutti, come succederà con Bappé tra l'altro, che è un giocatore che andrà via a parametro zero e chi è giocatore. Quindi questo è un po' il lato moderno del calcio post-Covid, dall'altra parte dico che chi si va a pigliare di Bappé a parametro zero secondo me fa un grandissimo affare e per la Juventus era a tutti gli effetti un parametro zero, perché che Di Bappé a firmi con la Juve e con un'altra squadra è un giocatore libero, quindi era un parametro zero anche per la Juve a tutti gli effetti. Faccio due conti, facciamo la base di 8 che erano quelli fissi, quindi 8 per 2 netto lordo sono 16, 16 milioni di euro ogni anno che la Juventus dovrebbe sborsare per pagare 8 milioni di ingaggio a Paolo Di Balla, per 4 che era offerta annuale, 4 anni, quindi 16 per 2 32, 32 per 2 64, una totalità di 64 milioni di euro per 4 stagioni. Ora ditemi nei commenti qual è un giocatore che migliora la rosa della Juventus, acquistabile tra cartellino e ingaggio, spalmato su 4 anni con 64 milioni di euro. Secondo me sono pochi, molto pochi, e dovrai capire chi sarà il sostituto di Di Balla, e questo significa almeno un calciatore in cui paghi il cartellino più un parametro zero, mi viene da dire, magari che viene dall'estero e che quindi può usare il decreto crescita. Mi viene in mente Rudiger, di cui abbiamo parlato qualche tempo fa, più un giocatore in cui vai a pagare il cartellino. Poi magari sono, che ne so, 80 milioni invece che 64, 100 milioni invece che 64, però sono due calciatori invece che uno, e questo potrebbe essere una lettura giusta della Juve, tornando sul discorso modernità, fermo restando che comunque la Juve un rinuovo di contratto di Balla l'aveva offerto, e quindi secondo me è una brutta figura. E quindi la domanda che mi viene da fare è, sarà 4-3-3? Si cede Di Balla per cambiare modulo, quindi l'erede di Di Balla sarà un esterno, un centrocampista, un difensore centrale, un terzino, o più di una di queste cose? Può essere, però se vogliamo passare al 4-3-3, io conto gli esterni in rosa, c'è in questo momento Chiesa che è rotto, c'è un crociato rotto, Quadrado che è in scadenza, Bernardeschi che è in scadenza, gli altri che sono, due giocatori dell'Under 23, tra l'altro Ache, che si è rotto pure lui, e Soulet, non è tutti questi esterni, quindi devi andare sul mercato, e se vuoi giocare a 4-3-3 probabilmente di esterni ne devi comprare due, tre, soltanto nel mercato di quest'anno, più, penso, almeno due, tre centrocampisti, più, credo, almeno un difensore centrale, un terzino a sinistra, forse anche uno a destra, iniziano ad essere tanti acquisti, quindi la Juventus, questa cosa dovrà, ma poi banalmente no, io prendo la lista dei calciatori della Juventus, e vado a cercare di capire quali sono i problemi della Juve, in questo momento secondo me i problemi della Juve sono, Chiesa rotto, mancanza di esterni, centrocampo non qualitativamente elevato, difesa da ricostruire negli anni, terzino a sinistro, ve ne ho già elencati 4-5, tra questi problemi non c'è Paolo Di Bala, perché per me Di Bala non è un problema, e fa strano pensare che la Juventus invece parta da lì, nel rifondare la Juve dell'anno prossimo, partendo da Paolo Di Bala, che problema per quanto mi riguarda non è, e faccio un parallelo con Cristiano Ronaldo l'anno scorso, perché tante volte ho letto che Cristiano Ronaldo era il problema della Juve, e secondo me no, ma proprio no, come secondo me non è Di Bala il problema della Juve, ci mancherà Di Bala, come quest'anno ci è mancato Ronaldo, come avevamo iniziato il campionato Di Bala-Chiesa-Ronaldo, altrimenti con l'Atalanta e l'amichevole allo Juventus Stadium, ho un po' effetto pensarci adesso, perché Ronaldo non c'è più, Di Bala non ci sarà, e Chiesa si è fatto un brutto male, quindi vediamo. Dall'altra parte parlo dei rinnovi, degli altri rinnovi, perché se questa è la linea della Juventus, dato che quadrada in scadenza, mi aspetto che il rinnovo sarà al ribasso di una, massimo due stagioni, e che a quadrado debba andare bene quella, se no stesso trattamento, perché se no si fanno dei trattamenti di favore a seconda del giocatore. Stesso Bernardeschi, Bernardeschi oggi percepisce 4 milioni di euro all'anno, e secondo me Bernardeschi non può percepire 4 milioni di euro all'anno in questa Juve, che dice di no a Paolo Di Bala, per un rinnovo un po' più alto, quindi devono essere anche questi al ribasso, deve essere molto al ribasso, e non dico la metà, ma quasi dovremmo essere giù di lì. Prendere o lasciare, e fare questo ragionamento con tutti, al di là del fatto che Di Bala, se c'è, è titolare, e Bernardeschi no, e se Bernardeschi diventa titolare di questa Juventus, capiamo che dobbiamo accettare il fatto che ci siamo un po' abbassati a livello di aspettative. Quindi occhio, occhio, perché adesso sugli altri rinnovi, mi aspetto che venga tenuta la stessa linea che è stata adottata con Di Bala. E vi dico anche con anche i giocatori presenti in rosa, perché è vero che Rabiot arriva a parametro zero, e che quindi questo giustifica i 7 milioni, è vero che col decreto crescita sono meno soldi, però in una Juventus in cui Di Bala non può guadagnare 8 più 2, Rabiot non può guadagnare 7. Non può. Ed è vero che poi la Juventus paga in maniera diversa perché c'è il decreto crescita, ma al giocatore non gliene frega niente. Al giocatore che all'interno della rosa ti dice, ma scusa, io ne devo prendere 4, quando Rabiot ne prende 7, non gliene frega niente se poi la Juve paga meno di Lord Onetto. Proprio niente. Gli interessa che lui che si impegna magari più di Rabiot e leggo Federico Chiesa che ne prende sicuramente meno, o Vlaovic che ne prende, dovrebbe prenderne 6, lo stesso McKennie, Locatelli, gli dicono, però Rabiot ne prende 7, allora non importa quanto poi la Juventus va a sborsare, importa prendere tanto come il collega. E quindi la Juventus deve fare questo ragionamento su tutti i calciatori della rosa. A maggior ragione quelli che come Rabiot non ti hanno mai dato come Dybala a parità di titolarità. Penso che sia molto semplice e per evitare malcontenti nello spogliatoio, che sono le cose che poi vanno a minare un po' le certezze. Aggiungo, oltre a tutti quei problemi e tutte quelle cose da tornare sul mercato che vi dicevo prima, quindi esterni, centrocampisti, difensori, terzino, basta cedere. non esiste che esca Dybala esce Dybala non può uscire Dybala non può uscire Dybala e aggiungo ma questo dovrebbe essere una cosa secondaria il rinnovo di Federico Chiesa il riscatto di Federico Chiesa cioè Federico Chiesa non può non essere riscattato non esiste perché non c'è l'obbligo per Federico Chiesa questa estate dobbiamo riscattarlo Chiesa e Dybala sono della Juventus e rimangono della Juventus e attenzione perché poi secondo me con Chiellini che non si sa se continua o non continua il mondiale o non mondiale quanti anni Bonucci che è sul viale del tramonto Quadrado che è anche lui in scadenza Dybala che non c'è più Alexandro che è finito il ciclo di Alexandro stesso discorso che vale per Rabiot Alexandro 6 milioni di euro l'anno non gli vale questo Alexandro qui no in questa Juve qui che va a ribasso la fascia del capitano a chi va probabilmente a Bonucci verosimilmente a Bonucci però ribadisco se magari poi arriva anche Rudiger la coppa di titolare è De Litt Rudiger quindi serve un vero e proprio capitano effettivo per la Juventus quando non gioca a Bonucci chi è? De Litt? diamogli la convinzione di poter rimanere alla Juventus anche con questa cosa qui perché mi sembra davvero uno dei più pronti capitano anche senza fascia sarebbe ora di disegnare il capitano per il futuro e io De Litt ce lo vedo benissimo e dopo aver espresso tutti questi punti penso sia arrivato il momento di pubblicarvi il messaggio che avevo mandato a Paolo Ibala che era questo e quindi non so esattamente come leggerlo perché comunque Paolo il cuore ce l'ha messo e non lo so mi viene da dire che comunque lui alla Juventus ci sarebbe rimasto comunque volentieri ma 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 alla fine alla fine non rimarrà la Juve e ditemi voi i motivi ditemi voi anche un po' come leggere questa cosa ditemi voi un po' tutto non lo so è ovvio che questa decisione in un senso o nell'altro ha provocato degli strasci chi cioè c'era chi c'è chi c'è tuttora chi è assolutamente convinto che la Juventus abbia fatto la scelta giusta nel far andare Paolo Ibala chi invece è convinto che abbia fatto una cavolata senza precedenti vediamo dove andrà mi auguro davvero non all'Inter se deve andare a qualche parte mi auguro davvero non all'Inter però vi dico che conoscendo Beppe Marotta un tentativo per formare un attacco Dybala Lukaku lo farà al 100% e Dybala Lukaku sarebbe davvero un attacco problematico da gestire il prossimo anno e mi auguro che nel caso si possa lavorare bene noi perché sinceramente mi sono rotto le palle di non arrivare lì davanti a fine anno e che basta grazie a tutti